Lo stato di agitazione permane, non viene revocato come l'altra volta perché assolutamente rimaniamo in stato di agitazione. Poi vediamo quali saranno le evoluzioni dell'avvento. Fumata nera ieri nel palazzo di governo a Eserni al termine del tentativo di conciliazione condotto dal prefetto tra la municipale e l'amministrazione comunale. Presente il sindacato CSA che rappresenta la maggioranza degli agenti e l'assessore al bilancio di Palazzo San Francesco Angelo Iannone. Rispetto all'incontro del primo marzo non sono emerse novità di rilievo. La municipale chiede autonomia del corpo rispetto al settore tecnico del comune per l'amministrazione la richiesta è irricevibile. Per semplificare il comandante non può, ad avviso del sindacato, essere sottoposto al dirigente del settore per questioni logistiche, organizzative ed amministrative. Le parti al termine della riunione hanno ringraziato il prefetto per la sensibilità dimostrata rispetto alla problematica. L'amministrazione comunale comunicherà una risposta ufficiale nelle prossime ore. Sino a quel momento resta confermato lo stato di agitazione. Il sindacato si è riservato di valutare nuove forme di protesta. Gli agenti hanno manifestato la propria disponibilità ad un confronto con l'amministrazione per addivenire ad una soluzione rapida del problema. Noi siamo pronti a rispettare quello che dicono le norme e a cercare di andare incontro alle esigenze della Polizia Municipale nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e quindi nel rispetto della legge. Abbiamo dato tutta la nostra disponibilità nella risoluzione delle problematiche che loro avevano chiesto di affrontare e quindi sempre nel rispetto della norma e dei regolamenti. Ad oggi però l'amministrazione comunale non ha presentato nessun atto e nei suoi intendimenti, così come si è espresso poc'anzi, sembra che ne voglia vedere e discutere però sempre facendo rimanere un'autonomia limitata dando la parte amministrativa al dirigente tecnico. Ma non lo può fare, quindi spero che il sindaco e l'amministrazione tutta e l'assessore che è intervenuto siano così solerti non solo ma anche disponibili a una collaborazione con noi per trovare la soluzione migliore.